Va bene, allora in questa settimana, quindi tra oggi e mercoledì, ci occupiamo di due o tre aspetti che ci permetteranno di imparare a gestire dei database anche di dimensioni maggiori o di complessità maggiore rispetto a quanto abbiamo fatto finora. Quindi sono tecniche che sono principalmente pensate per scopi di efficienza, quindi cercare di velocizzare alcune operazioni sia di programmazione sia poi di esecuzione. Allora il primo tema di cui parlo è come costruire le classi del modello a partire da database un pochino complicati, infatti di più tabelle con relazioni esterne, chiavi primarie, chiavi esterne e cose di questo genere. Un pochino l'abbiamo sempre fatto in modo finora intuitivo, nel senso che c'è un database con dei campi, creavamo un oggetto le cui proprietà grossomodo fossero imparentate con i campi della tabella. Questa operazione tipicamente va sotto il nome, nome complicato, di Object Relational Mapping, cioè cercare di fare un mapping tra il mondo della programmazione oggetti e il mondo di database relazionali, che sono due mondi che purtroppo per noi ragionano in modo abbastanza diverso e quindi dovremmo in qualche modo accettare dei compromessi, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione delle relazioni o dei vincoli più complicati. Cito il nome, Object Relational Mapping, abbreviato spesso come ORM, perché in realtà trovate in giro, se domani vi dovreste trovare a lavorare in Java o in altri linguaggi, su queste tematiche, esistono diverse librerie cosiddette di ORM, vero e proprio, cioè che automatizzano il più possibile questo tipo di operazioni. Quindi già vi creano tendenzialmente in automatico una serie di classi, nel linguaggio di programmazione vostro, e una serie di metodi di un'eventuale classe DAO o simile, che già automaticamente in qualche modo generano le query e creano l'associazione, diciamo così, tra gli oggetti e le tabelle del database. Noi per capire come si tratta, e tutto sommato perché non abbiamo grosse esigenze, impareremo a farlo, ragioneremo su come farlo a mano. Però volevo lanciarvi lì l'idea che se doveste farlo, diciamo così, professionalmente, o per davvero, andatevi a cercare una qualche libreria ORM adatta al linguaggio di programmazione con cui lavorate. Per noi cosa facciamo? Il nostro obiettivo è quello di creare degli oggetti Java che useremo nel nostro modello in due modi. Da un lato il modello stesso avrà bisogno di rappresentare le informazioni che sono nel database con cui dobbiamo lavorare. E quindi le collection che sono nel modello in qualche modo dovranno collezionare, raccogliere oggetti di un certo tipo e dobbiamo creare questi oggetti in modo coerente con le informazioni che sono nel database. E il secondo obiettivo è che nei metodi del DAO abbiamo bisogno, abbiamo scelto, che i metodi del DAO ricevano e restituiscano come argomenti, come risultati, degli oggetti strutturati e che hanno il ruolo di transfer object, secondo il pattern DAO che abbiamo visto tempo fa, sono degli oggetti che servono per trasferire l'informazione dal livello database, dal livello DAO al livello del modello. E quindi questo stesso tipo di oggetto ha due vite. La prima vita viene usato dentro il DAO, l'altra vita viene usata dentro il modello. Quindi in qualche modo fanno da ponte. Devono soddisfare sia le esigenze del modello che vogliono una buona rappresentazione di oggetti, sia le esigenze del DAO che vogliono una buona coerenza con quelli che sono i dati memorizzati nel database. Allora, per farlo proviamo a darci, a mettere in bella essenzialmente una serie di regolette, che poi possiamo seguire in modo relativamente meccanico. Qui quando parla di Poggio è semplicemente una abbreviazione per dire plain old java object, cioè un oggetto semplice java che tipicamente avrà le proprietà dei setter, dei getter e poco altro praticamente. Allora, la prima regola è, vai a vedere il database, e per ogni entità principale del database crea una classe java. Qui c'è scritto entità, non c'è scritto tabella, perché noi sappiamo che in un database relazionale alcune tabelle corrispondono, se arrivate dal modello della progettazione logica, corrispondono all'entità. Altre tabelle invece corrispondono alla materializzazione di una relazione. Quando fate relazioni molte e molti, nel diagramma entità e relazioni, poi dovete creare una tabella che materializzi questa relazione molte e molti. Questa regola ci dice, guarda, nel database vai a identificare quelle che sono effettivamente le tue entità, quindi le tabelle che contengono i dati, non le relazioni, e per queste vai a costruire un oggetto, una classe java per ciascuno. Ok? E possibilmente il nome della classe rendilo uguale al nome della tabella. Poi noi normalmente cerchiamo, essendo una classe, di dargli un nome alla forma singolare, anche se la tabella del database avesse una forma plurale, perché viene meglio come la classe contiene un'istanza e questa istanza è di un singolo elemento. Dopodiché, per ciascuna colonna della tabella, aggiungiamo una proprietà nell'oggetto, e fin qua, facendo attenzione alla convenzione di naming, perché tipicamente SQL è un linguaggio che non è case sensitive, quindi maiuscolo e minuscolo mescolato a piacere, mentre in Java tipicamente abbiamo la convenzione di scrittura delle variabili, quindi il trattino non lo posso mettere, o non è consigliato, si usa maiuscolo e minuscolo per… Quindi traduciamo in un formato che sia, diciamo così, friendly per Java. E facciamo attenzione ai tipi di dato, per cui nel nostro database abbiamo delle colonne di certi tipi, noi dobbiamo in Java scegliere il tipo di dato più opportuno, che molto spesso sarà lo stesso tipo di dato nella colonna, ma a volte magari potremmo decidere di, tra virgolette, promuovere un tipo di dato che magari nel database di una stringa ha qualcosa di più strutturato, diciamo così, dentro il nostro modello Java. In questa operazione ignoriamo per il momento le colonne che sono usate come chiave esterna. Ok? Questo è il primo passo. Se vogliamo seguire questi passi su un esempio, io quello che avevo messo sul sito, avevo scritto sul canale Telegram ieri, è un database Yelp, Yelp era un sito di recensioni, adesso non so neanche se esista ancora oppure no, che a un certo punto ha rilasciato un dataset contenente le proprie recensioni, e questo dataset, diciamo così, è una versione minima, non è tutto il database chiaramente che aveva quel sito, però tanto per, diciamo così, prendere un esempio che non sia banalissimo, questo database è un database composto da tre tabelle, ok? Dovete scaricarlo da GitHub con il tastino di download, perché è un file più grande di quelli che vengono giù facendo semplicemente clone, quindi va scaricato a parte, e ad esempio abbiamo una tabella business che rappresenta delle attività commerciali, una tabella user che rappresenta gli utenti, e una tabella review, reviews plurale, che rappresenta i commenti che gli utenti fanno alle attività commerciali. E sono tre tabelle, tutte e tre abbastanza ciccione, nel senso che ad esempio la tabella business ha circa 11.000 righe, la tabella users ha circa 43.000 utenti, e la tabella reviews ha circa, anche qua, 11.000 righe, no scusate, review l'ho cliccato nel posto sbagliato, infatti ce ne erano poche, 212.000 righe, quindi cominciano ad essere numeri interessanti in certo senso, con degli ID che fanno un po' paura, però sono ID tipicamente generati automaticamente come chiave primaria, quindi abbiamo la tabella business che ha come chiave primaria la colonna business ID, e poi una serie di dati di queste aziende, abbiamo la tabella users, che è come chiave primaria la user ID, e alcuni dati molto pochi su questi utenti, e poi abbiamo la tabella reviews, che ha una sua chiave primaria, che è il review ID, ha due chiavi esterne, business ID e user ID, perché chiaramente una review, una revisione, viene fatta da un utente in riferimento a un business, a un'azienda, e quindi ci sono due colonne, che svolgono il ruolo di chiave esterna, se andiamo a vedere la struttura della tabella, ci fa vedere come chiavi esterne, che abbiamo una chiave esterna, che la colonna business ID della tabella reviews, chiaramente, fa riferimento alla colonna business ID della tabella business, e la colonna, la seconda chiave esterna, dice che la colonna user ID della tabella reviews, fa riferimento alla colonna user ID della tabella users, quindi qua ID te lo fa vedere con questa simbologia di chiave esterna. E poi ci sono le informazioni sulle review, il numero di stelle, il testo del messaggio della review, i voti che sono stati dati, la data, eccetera, eccetera. Quindi questa è una struttura di un database, c'è una tabella, una sua chiave primaria, ha dei campi associati, e ci sono delle relazioni, allora se dovessimo parlare linguaggio entità-relazioni, diremmo che potremmo venerlo in due modi, potremmo dire, beh sicuramente business è un'entità indipendente, sicuramente users è un'entità indipendente, la tabella reviews la possiamo vedere in due modi diversi, un modo che, se vogliamo quello un pochino più, forse più accademico, è dire no, ma reviews non è altro che una relazione tra business e user, una relazione molti a molti, n a n, relazione con attributi, non è una relazione pura, perché poi una volta che un utente ha fatto una review, dentro ci sono tutti questi attributi in più, che sono le stelle, i voti, il testo, eccetera, eccetera. Ok? Questo è un modo di vederlo, è un modo in cui forse l'avremmo potuto progettare nel diagramma entità e relazioni. Quindi è un modo di dire io ho due entità e una relazione molti a molti con attributi. L'altro modo di vederlo è quello di dire guarda, la review essa stessa è un'entità e quindi gli assegna una chiave primaria e poi questa entità a sua volta è in relazione molti a uno o anzi, sì, molti a uno con user e con è una E ed è in relazione in aggiunta anche con la tabella sempre con la relazione molti a uno con la tabella business, con l'entità business. Quindi in questo caso avremo tre entità business, user e review e review è una relazione con users molti a uno perché appunto una review è relativa a un solo user ma uno user può fare molte review e idem dall'altra parte di business e quindi abbiamo la review che può essere relativa a un solo business ma quel business può avere tante review molti a uno. Allora se lo vediamo così in entrambi i casi vediamo al stesso risultato in termini di tabelle sono due modi diversi di leggerla. In questo caso abbiamo appunto un'entità che ha la sua identità diciamo così che è la sua chiave primaria review id e poi come si progetta una chiave esterna uno a molti si mette un attributo dal lato molti che punti all'uno dall'altra parte quindi abbiamo una relazione uno a molti tra review e user e quindi devo mettere dentro review la chiave esterna un attributo che punti allo user poiché da review posso avere uno user solo va bene mettere l'attributo dentro review non potrei non avrebbe senso mettere dentro user un attributo che punti a review perché questo è un attributo molteplice una review potrebbe avere scusate uno user potrebbe fare molte review e quindi poiché io sfrutto il fatto che la reazione ha una delle due cardinalità pari a 1 per semplicemente rappresentare l'informazione sulla relazione attraverso un attributo messo dal lato opposto della relazione ma queste sono cose che avete imparato a base di dati ci aiuta a ricordare appunto che qua le relazioni sono mappate attraverso degli attributi delle colonne del database che ripetono gli id di altre colonne quindi il modello che tiene insieme un database è un valore di una colonna di una tabella è uguale al valore di un'altra colonna di un'altra tabella che è poi il concetto di join che è totalmente assente nella programmazione di oggetti qua saranno poi i casini esattamente assente nella programmazione di oggetti perché in realtà nella programmazione di oggetti una relazione è semplicemente avere una reference ad un oggetto non ricopiarne il valore ma su questo ci arriviamo tra un attimo quando parliamo di relazioni allora pensiamo di voler scrivere diciamo così un'applicazione che lavori su queste tre cose lavori su queste database quindi su queste tabelle allora come costruiremmo le classi del modello allora fatemi fare un piccolo progettino anche qua molto semplice un progettino java senza molte pretese lo chiamiamo yelp orm per ricordarci che stiamo giocando sull'orm e pla pla e qua dentro ci facciamo una classe facciamo prima un package in cui creiamo le classi dai new package it polito tdp yelp model e poi creerò un altro mi serve per dopo un altro package it polito tdp yelp db quindi dentro un package model ci metteremo gli oggetti del modello dentro il package db ci metteremo il dao essenzialmente gli oggetti di tipo dao come siamo abituati a fare adesso ci focalizziamo sulla costruzione sistematica di questi oggetti allora la regola che abbiamo appena letto nella slide cosa ci dice ci dice guarda tu vai a prendere per ciascuna entità del database perché ciascuna tabella principale del database vai a creare un oggetto va bene che si chiami nello stesso modo quindi all'interno del modello noi dunque il database aveva una tabella che si chiama business una review e una users io propendo tra le due interpretazioni della tabella reviews cioè con una relazione molti a molti con attributi oppure un'entità sestante con due chiave esterne propendo per la seconda è uguale ma mi sembra più facile da leggere perché le relazioni con attributi sono complicate da gestire in un certo senso quindi pensiamo che sia un'entità sestante la revisione anche perché ha un suo ID ha una sua data eccetera eccetera e poi è collegata ad altri campi quindi in questo caso la domanda che mi faccio è nel mio database quali sono le tabelle che rappresentano delle entità e direi tutte e tre e quindi vuol dire che creo tre classi ok una classe business una classe user new class business in questo caso questo database come vedete è leggermente incoerente perché review e user lo mette al plurale come nome della tabella invece business lo mette al singolare vabbè pazienza per loro io la classe la faccio a singolare business e dentro questa classe chiaramente sono dentro il modello ecco qua perché queste classi qua verranno usate sia come dati da passare al DAO sia come diciamo così oggetti per contenere i dati su cui il modello lavorerà la regola mi dice poi vai a vedere i vari campi della tabella e convertili in proprietà di questa classe allora i campi di questa tabella siamo in business quali sono sono elencati qua business ID full address active eccetera eccetera quindi in teoria dobbiamo metterci lì con un po' di pazienza e creare tanti oggetti corrispondenti dei tipi giusti quindi dove c'è un var char ovviamente sarà una string dove c'è un int sarà int o integer dipende come lo vogliamo rappresentare double sarà un double e così via quasi come prima come primo occhito quindi ad esempio l'ID business ID quindi abbiamo un private string qui lo potrei chiamare business per seguire alla regola dovrei chiamarlo esattamente come la colonna business business id oppure potrei anche eventualmente chiamarlo id semplicemente è una scelta no? forse business ID è un più lungo da scrivere ma visto che abbiamo tre tabelle in tutti e tre c'è un campo che si chiamerebbe id diamogli il nome più lungo così non ci confondiamo qui aveva un id che rappresenta una cosa poi c'è un full address private string full address poi abbiamo un active cos'è active? active e guardate qua è una stringa che però contiene solamente true o false allora noi possiamo essere più più beceri dicendo una stringa è stringa rimane oppure ragionare un pochino di più dire ma attenzione visto che contiene true o false la mettiamo in un boolean anziché in una stringa poi ovviamente se io decido di mettere in un boolean ci penserà il DAO tutte le volte che legge un campo string andare a controllare se è true o false e costruire il booleano corretto però mi pare che diciamo così ogni sforzo che facciamo in fase di modellazione per avere un modello più pulito ci torna poi in fase di esecuzione quindi io direi private boolean active si potrebbe usare l'oggetto boolean o la variabile bool poco cambia o il tipo primitivo bool poi abbiamo un categories questa è una stringa io non amo chi ha fatto questo database però purtroppo di solito dobbiamo lavorare con cose che non ci piacciono cioè categories è una cosa che contiene una stringa e questa stringa contiene dei nomi di categorie separati da virgola ma non ti hanno insegnato la prima forma normale mi verrebbe da dirti cioè in teoria dovrebbe esserci una tabella con le categorie a parte e una relazione molti a molti che dice quali categorie si applicano a questo a questo single business perché se poi domani dovessi fare una ricerca dimmi tutte che ne so i ristoranti e dovrei andare a fare una bellissima ricerca full text sulla sulla colonna categorie con un bel like ristoranti e la mia efficienza della mia query va a farsi benedire così è ok è questo ma come molte delle cose che trovate in giro poi magari questo dataset che ha creato questo dataset ha già messo insieme facendo delle join dei dati che lui aveva originalmente in tabelle separate mi rifiuto di credere che un insieme di categorie sia semplicemente sbattuto dentro come testo separato da virgola però adesso noi ce l'abbiamo così se dovessimo progettarlo progetteremo diversamente spero ma ce l'abbiamo così teniamocelo così poi ovviamente noi non sappiamo ancora cosa faremo nella nostra applicazione nel nostro programma java cosa dovrà fare eventualmente se il programma dovrà fare molte ricerche per categoria converrà spacchettare queste cose qui e non prendere un'unica stringa ma avere una lista di di categorie però qua non ci sono e quindi per ora fingo di accontentarmi e quindi private string categoris mi tappo il naso senza sentire la puzza come sempre se stiamo seguendo delle regole ma le dobbiamo poi interpretare poi abbiamo city questo è facile più o meno di nuovo qua dice city è una stringa però potrebbe aver senso avere una tabella di città con i nomi di città per evitare che uno scriva phoenix in tre modi diversi perché non sa mai dove mettere l'h vabbè è così stiamo cercando di rappresentare questo database non di riprogettarlo poi abbiamo review count review count e questo è facile è un int torniamo a vedere la tabella qua la struttura della tabella review count è un int poi abbiamo un business name private string business name poi abbiamo neighborhoods neighborhoods cos'è? è curioso perché è praticamente vuoto sempre bello questo campo che è quasi sempre vuoto sarà facile da trattare lo possiamo rappresentare neg bore hoots sempre vuoto quello scritto qua private poi abbiamo ecco abbiamo due double che sono latitudine e longitudine allora li possiamo rappresentare ovviamente nel nostro modello come due double diversi oppure usare magari una libreria che contenga già al suo interno un oggetto che rappresenta l'altitudine e la longitudine l'abbiamo già usata in qualche esercizio è vero la simple long lat l'ho già fatto usare mi confondo da un anno l'altro si ad esempio c'è gli altri anni avevamo usato una libretta molto semplice che si chiama simple lat lng che ci fornisce un oggetto che si chiama lat lng che ha due proprietà che sono guarda un po' la latitudine e la longitudine quindi noi potremmo decidere se questo dato che nel database gioco forse è destrutturato in latitudine e lungitudine come due colonne separate perché quelle sono ma difficilmente hanno senso separate l'una dall'altra possiamo decidere di mapparle perché di mapping si tratta in due colonne private double com'è che si chiamava latitude private double longitude oppure importarci quella libreria scaricarcela metterla in mave insomma riportarla nel progetto io lo metto solo come commento e avere un campo di tipo si chiamava lat lng e a questo punto lo chiamo non latitudine e longitudine non la posso chiamare coordinate questo questo è un ragionamento che abbiamo fatto prima col boolean nel database qualcuno aveva un tipo di informazione e l'ha dovuta spiattellare sotto forma di colonne magari questa informazione aveva senso era nata in forma aggregata e quando lo portiamo in java ci possiamo trovare più comodi a riaverlo in forma aggregata adesso lascerei la parte con i double anziché con l'oggetto per non dare per tempo adesso importarci la libreria quindi questo mapping può essere un mapping più diciamo così letterale esattamente campo per campo oppure un pochino più interpretato se vogliamo pensare al significato dei campi ovviamente come dicevo all'inizio ci sono delle librerie che fanno sta roba in automatico che vanno a leggere un database e ti creano un oggetto java o viceversa vado a leggere un oggetto java e ti creano una tabella sql ovviamente loro lavoreranno in modo letterale campo per campo non fanno questi ragionamenti che stiamo facendo noi essendo delle librerie se non ovviamente opportunamente istruite state state è lo stato ovviamente essendo americacentrica questa cosa qua gli stati sono gli stati degli stati uniti non sono gli stati del mondo perché ovviamente negli USA il mondo si limita lì anche questa è una stringa stringa due lettere il codice dello stato anche qua ci stava bene una chiave esterna su una tabella dei 52 stati americani però l'hanno rappresentata come stringa e così ce la teniamo stars è il punteggio numero di stelle ok quindi la prima cosa che abbiamo fatto cosa abbiamo fatto abbiamo mappato la tabella in una classe abbiamo mappato le colonne negli attributi di questa classe questo non è ancora un oggetto java perché così com'è non si può usare dobbiamo aggiungerci costruttore setter getter e l'identità dell'oggetto cioè l'identità intendo il metodo equals e hashcode che sono quelli che vengono usati dal linguaggio java per capire se i due oggetti contengono lo stesso valore oppure no quindi sono l'altra parte che dobbiamo aggiungere il costruttore getter setter equals hashcode l'unica regola con cui dobbiamo fare attenzione è che dobbiamo definire equals hashcode in modo coerente con ciò che abbiamo sul database cioè noi non vorremmo mai avere due oggetti che dal punto di vista del database sono considerati uguali cioè hanno la stessa chiave primaria e nel mondo java sono considerati diversi oppure al contrario oppure viceversa due righe diverse del database che poi corrispondono allo stesso oggetto java perché equals dice che sono uguali quindi qui da questo punto di vista è più facile per noi diciamo così il programmatore perché qualcun altro ha già deciso per noi qual è l'identità di questi oggetti definendole le chiave primarie se siamo fortunati come in questo caso la chiave primaria è unica quindi sarà un campo solo se chi ha progettato il database avesse costruito ad esempio se questa tabella reviews fosse stata una tabella implementata come una relazione e non come un'entità la colonna review ID non ci sarebbe stata ma avremmo avuto business ID e user ID entrambe insieme congiuntamente chiave primaria quindi avremmo avuto una chiave primaria doppia che non è un problema si fa però allora anche noi nella nostra classe nel nostro metodo equas avremmo dovuto implementare un metodo equas che andava a vedere quelle due proprietà quei due attributi che ovviamente la loro combinazione deve essere univoca qui c'è una leggera differenza prima vi ho detto che era una forse differenza di interpretazione in realtà è anche una differenza di implementazione domanda di database se io cancello questa prima colonna review ID rendo la seconda e la terza colonna chiave primarie sto modificando qualcosa di sostanziale nei dati che posso memorizzare sì o no noi adesso abbiamo un ID di review e due chiavi esterne relazioni 1 a molti ok quello abbiamo visto prima qualcun altro invece ha fatto il modello di antità relazioni e dice questa qua è semplicemente una relazione molti a molti e quindi ha due colonne che sono le due chiavi esterne che sono anche la combinazione delle due colonne è chiave primaria di questa tabella ma l'informazione che sto rappresentando è la stessa sono equivalenti? dimmi esatto la differenza è questa cioè se io togliessi questa colonna e dicessi che quella questa è una relazione pura molti a molti in una relazione molti a molti l'utente può fare molte revisioni a vari business ma non può mai fare due volte una revisione allo stesso business perché è vietato avere due volte se queste due colonne sono due chiave primarie sono parte della chiave primaria composta non è possibile avere due volte la stessa identica coppia di elementi quindi se vogliamo una domanda a monte è lecito per un utente fare due review allo stesso business? se è lecito per un utente fare due review allo stesso business allora questa non è una relazione è un'entità deve essere un'entità che ha una sua identità un suo ID e accidentalmente può essere fatta il fatto di essere fatta una review da un utente per un business sono degli accidenti sono degli attributi che possono anche essere uguali possono anche ripetersi se io invece voglio evitare perché nel mio business model non è previsto che un utente faccia un'altra review allo stesso business a cui aveva già fatto una review per cui o ti cancelli quella vecchia o non te ne faccio fare una nuova ad esempio allora ha più senso vederla come relazione dove una coppia utente review deve comparire una volta sola quindi fate attenzione che le relazioni molte a molti sono molte a molti ma uno per volta ma non ripetute è una finezza però quando progettiamo la base dei dati ci accorgiamo poi del limite più avanti quindi questo mi convince ancora di più che sia bene tenere questo come entità tutto questo ragionamento viene a monte sulla progettazione del database a noi qua interessa di chiederci qual è poi la chiave primaria di sta roba qua una corona sola una combinazione di due colonne perché lo dobbiamo usare nel metodo equals allora torniamo in eclipse a questo punto il lavoro lo fa tutto eclipse da adesso in avanti perché li facciamo costruire il costruttore costruttore quali campi mettiamo nel costruttore tutti in questo caso probabilmente tutti se ci fossero delle colonne che corrispondono magari chiavi esterne o dati opzionali e cose di questo genere magari potremmo non metterle però per il momento li mettiamo tutte per fortuna lo fa lui il costruttore poi si divertirà il DAO quando deve creare questi oggetti qua e poi devo creare tutti i cari amati getter e setter i tutti campi per non saperne leggere e scrivere mettiamo sia il get che il setter per ciascuna dei campi qui ci aiuta il fatto di avere normalizzato i nomi dei campi secondo le convenzioni di java ok perché ad esempio già questo campo qua full address get full address con le lettere maiuscole messe nei posti giusti se noi avessimo inserito dei campi con l'underscore nel nome come erano magari nel database qui sarebbero venuti dei nomi di metodi brutti no? e via e quindi abbiamo generato un pacco di codice guarda che bravi 100 righe di codice in un attimo e poi rimane l'identità dell'oggetto da non dimenticare mai finché ci siamo ci facciamo generare escode equals dove qua quali sono i campi che devono intervenire nel calco di escode equals tutti i soli i campi che nel database compongono la chiave primaria in questo caso business id solo business id deve essere inserito come campo di cui tener conto nel calcolo dell'hashcode o nel calcolo dell'uguaglianza tra classi poi sul comperto non dico niente dipende no? su quale sia di tutti questi campi qua l'ordine prevalente probabilmente non esiste uno su oggetti così complicati così pieni di campi non c'è un ordine naturale quasi sempre potrei voler ordinare per distanza potrei ordinare per data per inserimento per ordine alfabetico per stato insomma ce ne sono troppe quindi molto spesso non c'è un compare to nella classe ma avremo tanti comparatori a seconda dell'esigenza e questo è il lavoro che facciamo per ogni singola tabella del database l'abbiamo fatto per business dobbiamo farlo per users dobbiamo farlo per reviews per users è molto facile perché abbiamo veramente pochi campi che sono solamente o string o numeri numeri tra l'altro alcuni sono dichiarati come int altri come double quindi anche qua dobbiamo ripeterlo quindi direi che a questo punto abbiamo preso la mano il nome della classe preferisco darlo al singolare perché poi quando faccio new user sto creando un oggetto di tipo user non un gruppo di utenti in java mi suona meglio e i campi da inserire dentro user sono di nuovo user id private string user id what's funny qualunque cosa adesso voglio dire what's voti divertenti poi abbiamo un campo che si chiama what's useful ah probabilmente dice se quella sono voti a un utente quindi dice se l'utente è fanni o no vabbè what's cool poi abbiamo name il nome dell'utente che non è chiave primaria non è univoco non è un campo che è definito come univoco quindi semplicemente il nome con cui l'utente si presenta vedete che è un nome di battesimo non è univoco non è l'id non è il nome di login non è la mail può essere duplicato semplicemente un'etichetta una descrizione qua si vede che ovviamente questo database è un'estrazione parziale del database vero perché manca la mail ad esempio di queste persone o un identificativo in cui loro possono fare effettivamente il login va bene average stars che è un reale average stars stars e poi abbiamo il campo review count e poi facciamo lo stesso giochino di prima costruttore in cui ci metto tutti i campi non l'ho detto mi è sembrato scontato l'ordine con cui scrivo i campi che in realtà salterà fuori anche come l'ordine con cui si scrivono con cui compaiono i parametri del costruttore cerchiamo di mantenerlo uguale all'ordine delle colonne perché poi quando scriviamo il codice così non dobbiamo rimescolarci le cose e incrociare gli occhi banalità setter getter setter di tutti e poi e poi il equals che contiene solamente user id e vabbè questo era facile avendo capito il meccanismo non so ragionare sulle sulle proprietà in questo caso la tabella utenti non ci poneva particolari dubbi o stranezze mentre il business era già un pochino più complicato poi avremmo l'altra che è reviews quindi anche qua dobbiamo fare una tabella review su cui però dobbiamo ragionare un attimo review di nuovo la classe la chiamo al singolare non ho dubbi a mettere il primo campo review id e poi mi fermo per ragionare sugli altri due campi che sono chiavi esterne vabbè gli ultimi in fondo va bene questo sarà un integer questo è un local date abbiamo imparato le date i votes di nuovo review text queste cose qua va bene queste chiavi esterne allora nella slide ci diceva una cosa guarda i vari campi devono essere metti di tutti tranne quelli che compongono le chiavi esterne perché cosa devo fare con le chiavi esterne allora ci sono diversi modi di trattare questa cosa in funzione di che cosa ci serve cioè le chiavi esterne le relazioni in generale ovviamente se le vogliamo rappresentare se ci serve rappresentarle ci sono vari modi di rappresentarle quindi la prima domanda è se ci serve perché qua entriamo non è complicato ma nel laborioso richiedere lavoro allora magari nel database ci sono tante relazioni ma le nostre applicazioni non ci servono perché quel tipo di query quel tipo di join non la faremo mai e allora chi se frega e non lo mettiamo mettiamo semplicemente l'entità ma invece ci sono alcune relazioni che ci interessano rappresentare e allora quello che ci interessa rappresentare decidiamo come allora le più facili sono relazioni che abbiano cardinalità 1 da qualcuno dei due lati quindi vuol dire relazioni 1-1 che praticamente non ci sono mai perché se no se è 1-1 metti tutto nella stessa tabella di solito a meno che uno dei due capi sia opzionale oppure sono 1-1 a molti quindi 1-1 vuol dire che c'è un lato 1 e un lato molti lo puoi la puoi rappresentare facilmente così come nel database questa è una reazione tra review e business abbiamo messo una colonna business id dentro la tabella review in java potremmo ragionare nel stesso modo possiamo mettere un attributo business id dentro la tabella review e però questo attributo di che tipo deve essere adesso qui c'è un esempio con una relazione tra studente e persone perché è una relazione in questo caso più facile perché è 1-1 noi potremmo avere una classe persona una tabella quindi sopra sono tabelle del database una tabella persona che ha una chiave primaria e una tabella studente che ha una sua chiave primaria perché come studente avete una matricola e però ha una chiave esterna che punta alla classe persona tu come studente in quella matricola hai quel coice fiscale quindi che è la chiave primaria della classe persona allora se noi lo rappresentassimo copiando ciò che c'è nel database mi verrebbe da scrivere ok questa chiave esterna persona cos'è una stringa perché contiene codice fiscale e quindi mi verrebbe da scrivere private string codice fiscale della persona cioè qua mi verrebbe tornando al nostro esempio del business ID se facessi la traduzione colonna per colonna senza pensare che quella rappresenta una relazione dovrei scrivere string business ID e lo posso fare però mi vado a creare delle grane qua cioè del lavoro extra perché poi quando io immaginate poi l'applicazione nel model avrò una lista di business avrò una lista di review e quando devo dire ok allora dammi le review di quel business oppure data questa review dimmi quali i dati del business a cui fanno riferimento io c'è una stringa qua e come faccio una stringa devo andare poi a ricercare in tutta l'altra collection quale cavolo di business ha quel business ID quella stringona brutta cioè non sto sfruttando il fatto che questi sono oggetti il database lavora così lavora per le join del database sono identità di valore ma perché poi lui sotto il cofano c'è tutti gli indici c'è tutte le ottimizzazioni ma invece qua non abbiamo niente sotto il cofano che ci aiuti quindi siamo noi direttamente allora sarebbe molto più comodo molto più efficiente mettere qua questo anziché la stringa che contiene l'ID che poi nella tabella dei business vado a vedere a quale business corrisponde io potrei metterci direttamente un riferimento all'oggetto di tipo business a un oggetto non alla stringa che rappresenta la chiave primaria di quell'oggetto allora è molto più comodo perché a questo punto se ho una review così la stessa cosa posso fare quindi non uso una stringa perché è più facile da leggere il database ma poi è più complicato da usare perché ogni volta mi devo fare una ricerca in una collection per riuscire a trovare l'elemento che corrisponde e quando ho una relazione che dovrebbe tenere insieme i dati e tutte le volte che devo attraversare questa relazione devo faticare probabilmente non sto facendo la scelta giusta ok e qui la stessa cosa user così come oggetto non come ID ok quindi questa è la scelta migliore perché mi permette immaginate di avere una bella collection di review ok stampami l'elenco della città in cui si trova l'azienda che hai revisionato non c'è problema perché basta fare review.user anzi .getuser e mi dà l'oggetto scusate getbusiness e mi dà l'oggetto business di cui posso estrarre i vari campi getcity o quello che voglio ovviamente di nuovo la difficoltà la complessità lo sto spostando il lavoro lo sto spostando sul DAO che sappiamo già che è colui che deve fare il lavoro sporco da un lato perché il controller fa il lavoro sporco dall'altro ma perché noi vogliamo usare il lavoro pulito al model e vuol dire che il DAO quando legge questa tabella quando faccio la query select che ne so asterisco from review magari non la facciamo perché è un po' tante ma ci arriviamo lui ci troverà in mano la colonna business id che ha la stringa e però qua mi deve mettere un oggetto quindi il DAO deve sapere o creare o conoscere già qual è l'oggetto che ha quell'id ok quindi questo è un pezzo del problema che credo che riusciremo a risolvere solo mercoledì però dal punto di vista del modello è molto più pulito quando ho una relazione inserire un oggetto che mi permette direttamente una proprietà di tipo oggetto che mi permette di riferirmi direttamente all'oggetto corrispondente e vabbè poi gli altri campi sono facili ecco poi questa è una relazione gli altri campi di review sono facili li facciamo dopo però questa è una relazione che non è una relazione 1-1 è una relazione 1-1 a molte abbiamo detto e nella logica del database relazionale le relazioni sono sempre bidirezionali cioè io quando faccio una join posso dire dato un business dammi tutte le review che sono molte di quel business oppure dato una review dimmi il singolo business a cui appartiene ma non devo fare nulla di speciale semplicemente ho due campi che sono uguali poi ho fatto la chiave esterna per ragione di ottimizzazione e questa relazione è identificata dall'uguaglianza dei valori delle due colonne e può essere attraversata se così vogliamo dire in entrambi i sensi conosco la review voglio sapere il business conosco il business voglio sapere la review in java non è così nel senso che se io ho questo campo popolato correttamente business se io conosco la review è facile trovare il business punto get business ovviamente dopo che ho riempito quel campo correttamente il contrario no immaginate di avere un business e mi chiedono quali sono tutte le review di questo business e che ne so se io ho i dati del business ma da qua non ho nessun modo per ottenere tutte le review di un determinato business il modo dovrei farlo faticosamente andando a prendere magari una collection una lista di tutte le review e me le vado a leggere una per una andando a controllare se quella review punto get business è uguale a this è uguale a me però non è molto efficace non come soluzione cioè in un modello oggetti le relazioni sono sempre unidirezionali da un oggetto posso passare a un altro ma non è detto che posso tornare indietro a meno che non mi memorizzi anche una relazione per passare indietro cioè dovrei se io volessi mappare la relazione uno a molti tra business e review in modo completo devo mettere la business dentro review ma anche la review dentro business un campo che sia un campo molteplice perché dato un business posso avere molte review quindi diciamo così list di review cioè dovrei avere dentro ogni oggetto di tipo business una struttura dati io ho scritto list ragionando in modo relazionale come il database sarebbe più corretto dire set perché le righe di una tabella non sono ordinate come una lista sono in ordine arbitrario e sono non ripetute dal punto di vista della chiave primaria poi diciamo così per i puristi dovrei scrivere set anche se poi un set è più scomodo da usare è quello che più si avvicina alla rappresentazione vera e propria della relazione oppure mettiamo lista insomma una collection una qualunque collection ok set oppure list oppure un'altra collection di questo tipo che mi permette di fare passaggio inverso e questo di nuovo immaginiamo quando io faccio un metodo del DAO che deve leggere la tabella dei business è poverino lui per ogni business in realtà dovrebbe andarsi a trovare tutte le review che sono associate e fare riferimento non neanche agli ID di queste review ma agli oggetti che sono costruiti tra l'altro qui abbiamo un problema tipo vuolo e la gallina no? nel senso che immaginiamo di essere nel metodo del DAO dammi tutti i business per dammi tutti i business lui per ciascun business mi deve costruire una serie di oggetti review ma per costruire un oggetto di tipo review lui dovrebbe avere anche il business l'oggetto business a cui fa riferimento che però non ho ancora costruito perché proprio sto costruendolo adesso allora questi campi sono il modo diciamo così corretto di mappare le relazioni però qua valgono due regole di opportunità la prima regola di opportunità è dire se non mi serve non lo metto cioè se nella mia applicazione non avrò bisogno di passare da review da business a review questo campo qua non lo metto mica sono obbligato a fare un marketing completo assoluto perché se lo metto mi costa gestirlo quando lo creo soprattutto quando lo creo primo quindi la prima idea è finora abbiamo lavorato in modo neutro ci sono le tabelle le mappiamo in classi quando è ora di mappare le relazioni dobbiamo invece ragionare in termini di opportunità mi serve in questa applicazione se sì faccio il lavoro extra per farlo altrimenti non lo faccio ok la seconda diciamo così criterio di opportunità è quando lo faccio cioè immaginando che mi serve questa relazione quando la riempio quando la popolo posso decidere di non popolarla subito posso decidere che quando leggo l'elenco dei business questo campo lo lascio vuoto e adesso nel costruttore non ce l'ho non l'ho messo però nulla mi vieta di fare di spunto this punto si chiamava reviews uguale nulla non serve a niente perché in realtà è già automaticamente inizializzato a nulla ma così mi convinco che lo sto facendo vuol dire che questo campo viene inizializzato tardi inizializzato dopo in gergo parliamo di lazy initialization è pigro lazy cioè vuol dire che è un campo che contiene un dato ma la prima volta che creo l'oggetto quel campo non lo riempio sono pigro non lo faccio subito se mi servirà avrò un metodo per farlo avrò un altro metodo del DAO che mi va a riempire quel campo per un setter e quindi lo faccio solo nel momento in cui mi serve così evito che la prima query mi debba mangiare tutto ok quindi ho dei campi che avranno un'inizializzazione di tipo come si dice in gergo eager cioè voglio farlo e altri campi invece che hanno un'inizializzazione tipo lazy lo faccio solo quando mi servirà è previsto che ci sia la lista l'ho messa ma non la popolo non la creo ancora fino a quando non mi servirà ok quindi abbiamo tre livelli in qualche modo questo campo non mi serve mi serve ma non lo riempio subito lo riempirò dopo oppure mi serve e lo riempio subito è qua dove come vi accennavo è sulle relazioni che diventano complicate le cose ovviamente essendo questo metodo questo scuola questa proprietà una collection devo capire poi che metodi offrire per gestire questa collection immaginate il libretto vuoti potevamo avere semplicemente un getter e un setter quindi io avrò in questo caso getreviews e mi dà la lista e poi se voglio aggiungere un elemento farò getreviews.add e va bene oppure fornisco dei metodi per lavorare sulla collection quindi non fornisco la getreviews ma solamente addreview deletereview eccetera se voglio tenere sotto controllo le operazioni che vengono fatte senza darti riferimento alla mia struttura data interna qui ovviamente di nuovo dipenderà molto da che cosa ci devo fare di tutto questo mondo qua noi siamo in questo corso siamo fortunati perché per noi il database quasi sempre è una cosa che leggiamo e basta non dobbiamo modificarlo perché sennò tutte le volte che devo modificare un dato dovrò poi replicare la modifica sul database questo complica ulteriormente soprattutto queste parti qua di relazioni quindi per riassumere se vogliamo avere se vogliamo mappare una relazione uno a molti in modo completo dal lato uno ci metto un semplice attributo dal lato molti ci devo mettere una collection che poi vengono riempite in qualche momento dopo aver contestualmente subito oppure dopo aver creato l'oggetto ovviamente tutto questo dietro al grosso cappello se mi serve ok le cose che stiamo dicendo adesso e quello che dirò qua la mercoledì non vanno fatte sempre se no rischiamo solo di perdere tempo a implementare codici che poi magari non ci servono implementare funzionalità che poi magari non ci servono quindi i campi chiaramente ci devono essere ma tutta la parte sulle relazioni e poi quello che vedremo sull'identity map sono da fare solo se veramente ci accorgiamo che ci servono e allora lo implementiamo ovviamente più complicate ma sulla stessa linea sono le relazioni molti a molti la relazione molti a molti ad esempio tra un articolo e gli autori di quell'articolo quindi un articolo poi si è scritto da più autori ogni autore poi ha scritto molti articoli e tipicamente nel database essendo le relazioni a molti a molti richiedono ovviamente una tabella corrispondente tabella che possiamo non rappresentare non serve qui c'è una tabella authorship che è la tabella che corrispondente alla relazione non ci serve una classe authorship nel nostro programma Java se abbiamo semplicemente dentro article un attributo che mi dà la lista la collection di creatori di quell'articolo e ho dentro creator una lista che mi dà l'elenco degli articoli che quell'autore ha scritto quindi in questo caso le classi rappresentano le entità concettuali della progettazione logica non necessariamente le tabelle del database perché se una tabella contiene unicamente un dato di relazione può scomparire non serve se ovviamente questa relazione la rappresentiamo attraverso attributi per un certo periodo di tempo sono un po' comparsi poi sono scomparsi dall'orizzonte dei cosiddetti database oggetti in cui effettivamente già dentro il database si memorizzavano queste relazioni qua quindi erano più vicine alla rappresentazione in Java poi non hanno diciamo così avuto un grande seguito per il fatto che tu in fase di progettazione del database dovevi già sapere che tipo di query fare perché a quel punto costruivi le relazioni per poterle fare e tante volte non è così quindi il modello razionale tutto sommato ci aiuta perché ci permette di rappresentare i dati pensando unicamente ai dati e poi dopo ci facciamo le query sopra ma le possiamo poi combinare in tutti i modi possibili in Java invece questo ovviamente non si può fare qui è indicato che la relazione intermedia può anche eventualmente avere una sua chiave primaria cosa che avevamo noi ad esempio in Reviews che avevamo una colonna chiave primaria e avevamo anche capito perché serviva però nel caso in cui ci sia semplicemente come aggiunta in chiave primaria non è necessario rappresentare non lo saldiamo a nessuna parte perché non serve ok quindi questo se vogliamo sono un confronto pro e contro cioè i pro in verde e i contro in rosso sui diversi modi di rappresentare le relazioni le chiavi esterne io vi sto spingendo verso rappresentare la chiave come un oggetto e non come un valore che sia int che sia string eccetera eccetera proprio perché in Java manca l'automatismo di dire dato questo valore dimmi tutti gli oggetti che lo possedono non è che manca ma costa perché devo scandirmi l'intera collection da un lato memorizzarsi il valore è facile nel senso che se non non mi serve attraversare quella relazione perché devo fare lo sforzo in più per trovare l'oggetto corrispondente mi salvo sto valore sta string e finita lì eventualmente se mi servirà avere l'oggetto corrispondente posso sempre chiederlo al DAO quando abbiamo fatto questo ragionamento ad esempio questo oppure quello sulla review abbiamo immaginato che il modello voglia avere già subito tutte le informazioni cioè se io ho un oggetto review voglio sapere qual è il business corrispondente e allora se ho riferimento all'oggetto bene ma se avessi solamente il business ID i casi sono due o possiedo dentro il mio programma Java la lista completa dei business e allora dal business ID alla lista completa dei business devo fare una sconsione una ricerca oppure la connessione con il database mica l'ho chiusa quindi avendo il business ID posso chiedere al DAO dammi i dati di questo business fammi in acquiri nel momento in cui mi serve dei dati di quel business poi magari una volta che l'acquiri l'ho fatta me la salvo lì nel campo business oppure la dimentico perché so che non mi servirà nel futuro prossimo quindi qualora io decida nel mio oggetto di memorizzare il valore e non il riferimento per ottenere il riferimento dovrò fare o una ricerca in un database in una tabella in una lista in una collection oppure un'acquiri al database tanto per capirci un'acquiri al database tende a essere mille volte più lenta se hai un acquiri semplice per il semplice fatto che devo fare lo statement mandarlo e fare il risultato eccetera eccetera mentre se i dati li ho dovrò fare una scansione di una lista ma tendenzialmente è più veloce che non un acquiri ma dipende è del caso in realtà c'è un terzo modo che se vogliamo è il meglio di entrambi è la possibilità di avere immediatamente il dato di una lista il dato corrispondente all'interno di una lista senza doversi scorrere la lista cioè farsi una mappa una mappa di supporto che dato il business ID stringa mi dia l'oggetto business di questo parleremo mercoledì quando parleremo delle identity map quindi sono strutture dati di supporto che mi permettono di gestire meglio queste cose ok quindi dicevamo se rappresento la stringa l'intero come valore della relazione devo poi preoccuparmi di dire sì ma poi quando mi serve l'oggetto dove lo trovo se invece lo rappresento come oggetto l'oggetto ce l'ho già il problema è quando lo riempio quando lo popolo e chi lo fa in certo senso e poi c'è il rischio che io vada a leggere tutti questi dati e poi non li usi mai quindi ho fatto del lavoro all'inizio per predisporre tutto a un bellissimo modello dati poi in realtà quell'informazione non serve al controller perché non non implementa una funzionalità in cui gli serve e quindi la via di mezzo era quello che dicevamo prima di inizializzazione di tipo pigro e quindi ho un oggetto che è inizializzato solo parzialmente in cui alcuni campi sono pieni altri sono vuoti sono nulli tipicamente e poi quando serve lo vado a riempire essenzialmente quindi avrò dei campi read o cose di questo genere che vanno a riempire il campo a volte quello che si fa lo si riempie durante il get se uno fa get città-residenza e mi accorgo che città-residenza è null aspetta un attimo chiediamo al DAO di avere l'oggetto e lo riempiamo ma nessuno fa mai quel get se nessuno facesse mai quel get quel campolino non l'ho riempito ma nessuno si è mai accorto quindi in questo modo facciamo proprio una query just in time solo quando so che a qualcuno serve quel dato vado a leggerlo e non faccio nulla in anticipo sono tattiche diverse ok che ora è? non ci vedi sull'identity map ne parliamo come dicevo la prossima volta perché richiede poi di completare anche l'esercizio ma di ragionare invece vi voglio solo accennare ma perché è una cosa rapida un altro aspetto di ottimizzazione finora non abbiamo parlato di ottimizzazione abbiamo parlato più di razionalizzazione poi dopo metteremo tutto insieme facendo delle query un problema che finora non abbiamo apprezzato ma sul database di questa dimensione potremo apprezzare nel senso che se voi provate a fare una query per ogni business o una query per un utente essendo centinaia di migliaia vi accorgete che il programma è molto lento e se andate a vedere perché il programma è molto lento vi accorgete che la maggior parte del tempo non la perdiamo a fare la query a fare 100.000 query 100.000 query magari sono una query che dura un millisecondo 100.000 vuol dire due minuti ma invece vediamo che un metodo del DAO porta via 30, 40, 50 millisecondi di cui un millisecondo la query e tutto il resto è la connection aprire e chiudere la connessione e perché ve lo dicevo la prima volta che abbiamo parlato di JDBC chi ha inventato il database pensava che uno la connessione la apre all'8 del mattino e la chiude alle 5 del pomeriggio quando spegne il computer mentre invece noi le connessioni le apriamo e le chiudiamo ogni volta che chiamiamo un metodo del DAO allora per riuscire e hanno un costo questa apertura di connessione perché devo collegarmi attraverso la rete anche solo localhost ma comunque c'è un'apertura di rete c'è un controllo delle password il caricamento dei dati eccetera eccetera e questo porta via del tempo allora la soluzione qual è? è quella di dire senti io quando il programma parte apro una due cinque dieci connessioni verso il database oh mi costa ovviamente 20 millisecondi l'una 50 millisecondi l'una va bene è il tempo di avvio del programma quando il programma parte ci metterà mezzo secondo in più all'avvio ma poi ho lì un pool di connessioni già aperte che posso usare quindi non farò nei miei metodi del DAO non farò più get connection ogni volta ma semplicemente faccio un prepare statement e gli mando lo statement e quindi ho azzerato in un certo senso il tempo dovuto all'apertura e alla chiusura della connessione apertura e chiusura perché poi alla fine della query non la chiuso la connessione la lascio lì aperta perché magari mi servirà dopo un po' a un altro metodo del DAO quando dovrà fare le sue cose quindi l'idea è questa noi abbiamo le nostre applicazioni i nostri metodi del DAO che non si vanno a creare una loro connessione get connection ogni volta ma vanno a prendere in prestito una connessione da un gruppo di connessioni che sono già state aperte all'inizio del programma questo connection pool è un oggetto supportato da JDBC dal nostro driver manager si chiama data source e questo oggetto data source espone un metodo che si chiama get connection esattamente come driver manager ricordate che facevamo driver manager punto get connection per aprire una nuova connessione ecco adesso facciamo un passo avanti diremo data source punto get connection e diremo tu che già gestisci un pool di connessioni me ne presti una che hai provveduto per fatti tuoi ad aprirti all'inizio quando abbiamo creato questo connection pool quindi noi chiamiamo sempre un metodo get connection ma non dall'oggetto di driver manager che apre una connessione nuova fresca e quindi questo spaga del tempo ma chiameremo un metodo get connection da da un altro oggetto diverso che si chiama data source questo qua è il diagramma delle classi ma non andiamo a incasinarci c'è questa interfazza data source che poi viene implementata all'interno della classe qui ci sono alcuni esempi di benchmark che dicono guarda se io devo fare una query 100 volte o 1000 volte o 3000 volte a seconda che usi connection pooling oppure non lo usi i tempi di esecuzione sono 10-100 volte maggiore ma proprio perché normalmente se la query è complicata allora non importa se una query ci impiega 30 secondi poi avere 50 millisecondi di connessione non cambia le cose ma visto che la maggior parte delle query sono veloci sono semplici la maggior parte del tempo è dominato il tempo di esecuzione è dominato dalla connessione e se noi azzeriamo la connessione andiamo molto più veloci esistono varie implementazioni varie liberie che implementano questo concetto di connection pooling io poi ci sono ho citato le due che abbiamo più o meno usato negli anni in questo corso adesso ultimamente ci posiamo di più su questa qua che si chiama Ikari CP non so come si pronuncia Ikari credo sia giapponese o cose di questo genere la traduzione di Google Translate mi dice che quel simbolo lì vuol dire queste cose se qualcuno di voi sa giapponese me la corregga abbiamo scelto questa perché da una serie di benchmark che per carità li propongono loro questi benchmark si fa vedere che questa libreria rispetto ad altre è molto più efficiente nel senso che raggiunge un numero di operazioni a secondo molto maggiori rispetto ad esempio C3P0 che era quello che usavamo prima allora vedremo meglio come usarla ma mi voglio soffermare su questa slide poi la volta prossima la vediamo come interioressere nel progetto eccetera alla fine usare una collection pooling è relativamente semplice nel senso che io devo creare un oggetto data source usando questa libreria ogni libreria avrà il suo modo la data source cosa fa? gestisce per me un gruppo di connessioni e quindi la data source deve avere le informazioni su come ottenere queste connessioni quindi tipicamente deve avere la urd.jdbc la username la password tutte queste cosette quindi io predispongo una nuova data source e poi quando ho bisogno di una connessione chiamo il metodo getConnection sulla data source stessa quindi quello che faremo è di andare a modificare il metodo dbConnect facendo in modo che dbConnect non vada a creare una nuova connessione ma vada a prendere una in prestito della data source e ricordiamoci che io quando prendo in prestito qualcosa lo devo poi restituire in modo che altri metodi del DAO della mia applicazione lo possono usare riusare questa connessione se no lui apre 10 connessioni il mio programma fa 10 query e poi finisce lì non può fare altre query perché ha esaurito le connessioni a disposizione e restituire una connessione al Connection Pool si fa con un metodo che si chiama Close quindi i nostri metodi del DAO non si accorgeranno di niente perché loro chiameranno un GetConnection come già chiamavano e chiameranno un Close come già chiamavano i miei metodi del DAO la differenza è che questi metodi GetConnection e Close non agiscono più sul Driver Manager ma agiscono su Data Source e quindi il loro significato è cambiato non è crea una nuova connessione e chiudi una connessione ma diventa prendi in prestito di una connessione e restituisci il prestito con queste due piccole modifiche che saranno esclusivamente dentro la classe di B-Connect avremo risolto anche il problema della latenza di connessione ma di questo ne parliamo mercoledì grazie a tutti Grazie a tutti